Ciao e bentornati a un nuovo video recensione del canale Justin Apple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come JustiRosati e oggi voglio presentarvi un gioco volante. Una leggenda urbana attribuisce ad Einstein la frase senza le api il mondo sparirebbe in 4 anni. In pochi sanno che in realtà lui non l'ha mai detta né probabilmente tanto meno pensata ma è una cosa reale. Senza le api saremmo davvero tutti nei guai nel giro di pochi anni. No, non è il canale di Piero Angera e del suo super quark ma il gioco che voglio presentarvi oggi parla proprio del mondo delle api. È stato sviluppato da Flightless e si chiama Be Leader. I giochi di volo non sono mai stato in mio forte. Probabilmente troppe cose a fare per realizzare un semplice volo orizzontale mi hanno sempre scoraggiato. In Be Leader invece mi sono subito immedesimato grazie alla loro tecnica di gioco e alla cloche praticamente presente ovunque sullo schermo. L'idea di un volo semplice dato che per l'appunto saremo un'ape al quale dovrebbe venire naturale sposta la difficoltà di ogni livello proprio dove dovrebbe essere, cioè negli obiettivi che ci vengono proposti man mano. Crescendo d'esperienza ci ritroveremo in giardini sempre più grandi e pericolosi. Il nostro scopo sarà sempre e comunque tornare ad alveare con il maggior quantitativo di polline così da poter produrre la maggior quantità di miere possibile. Dovremo affrontare calabroni, formiche e tanti altri nemici naturali che con astuzia, capacità e un pochino di fortuna potremo battere senza dover mai utilizzare il pungiglione. Gioco semplice ma dalla grafica ben realizzata e con uno dei menu più simpatici che abbia mai incontrato rendono Be Leader un gioco da provare in un battito produrre. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione. Grazie.